Oh no vabbè, no vabbè, no vabbè No, non morire! Aiuto! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e questo è GioGio che ama Minecraft E siamo tornati dalla nostra isoletta sulla Sky Grind Il primo episodio vi è piaciuto tantissimo Noi ne siamo felicissimi Perché ci tenevamo tantissimo a fare una serie su questa mappa E quindi è andata bene, siamo felici e possiamo continuare Esattamente, ci tenevamo davvero tantissimissimissimissimo Che vi piacesse il primo episodio Perché ci piace molto questa mappa E vogliamo appunto portare Minecraft nel canale Quindi vedere che vi è piaciuto così tanto ci ha reso Davvero felicissimi È cresciuto un albero nel mentre Piccolo piccolo Ho notato, sì, giusto un alberello, capito? Per fare un po' di decorazioni Però bello, vedi? Almeno no, ormai siamo pieni di legna Comunque c'è una cosa importantissima Ok Ho fame Ma nella realtà? O in gioco? No, il mio personaggio ha fame No, perché è anche l'ora di pranzo Quindi devi specificarmi dove hai fame Allora, ho fame io e fame Ok, vedi, siete un tutt'uno Comunque anche io Sentiamo fame negli stessi momenti Allora Sì Organizziamoci un pochettino Sì Visto che c'è da prendere questa legna Ok Andare nell'altra isola Che ancora non abbiamo bucato E non abbiamo visto bene cosa c'è dentro Esatto E dovremmo anche creare uno spawn Giusto? No, allora lo spawn c'è già Tu devi semplicemente sistemare in modo tale Che sia comodo ammazzarli Allo stesso tempo continuino a suonare Ho detto creare ma intendevo sistemare lo spawn Esatto Bisogna essere precisi qua Sbagliato Bisogna essere precisi Ok Per avere appunto i mob comodi da prendere Ok, allora Prima di tutto hanno criticato tutti le mie piattaforme Lo so Ho letto i commenti Hanno ragione E effetti hanno ragione Hanno ragione Io me ne sono totalmente dimenticata questa cosa Anche io Però effettivamente è molto meglio mettere le slab Perché si consuma meno legna Esattamente E ovviamente essendo materiali limitati È giusto fare le cose bene Mi sono riempito tantissimo di legna Le lasciamo così, vero? Le prossime le facciamo slab Ma queste le lasciamo così Non ne ho voglia di cambiare tutto Allora facciamo così No, sarebbe troppo lungo Poi non ci mettiamo una vite Guarda Ok, ho un pezzo di legno Tieni, non me ne faccio nulla Mi è caduto in testa Ma non me ne faccio nulla Grazie Allora, se vuoi fare una cosa intelligente No Ok Dai, dimmi, dimmi Tieni questa legna Grazie Ok, aspetta Ti creo anche Una cetta Ah, mi fai tutto tu Perfetto Sì, sì, sì Stai da aspettare Mi fai tutto tu Sono gentilissimo oggi Grazie, grazie Ti fai una cetta Ti usi quei blocchi che ti ho dato Per prendere la legna lì sopra Per salire su Prendi la legna E prendi anche i nuovi alberelli Così capiamo quanti ne abbiamo E pianti soprattutto subito il nuovo Che anche quello è molto importante Ok, perfetto, perfetto Io vado a iniziare a fare la nuova piattaforma Vai Ok Spero di non morire di fame Noi mentre perché Ha famissimo il mio personaggio Eh, il mio Allora, al mio mancano tre polletti Al tuo Perché sei messo male? Tre polletti Ok, ok Siamo uguali identici Però io ho mangiato una mela Quindi non capisco perché mi ha più fame Io non l'ho mai mangiato Quindi probabilmente il tuo personaggio Sente più fame Cosa vuoi che ti dica? Perché sono più bello I belli mangiano molto No, perché sei più cicciotto No Sei un pirata cicciotto Non è vero Quindi senti più fame Sono in forma, ok? No Quasi finita Mi serve un altro pochettino di slab Devo farti vedere una cosa Guarda cosa ho trovato nelle foglie Dammela Dammi la mela Dammi la mela No Ne ho due E me ne ho mangiute due No Guarda Guarda Una testa Tu non lo vedi mai Sto facendo il gesto Di mangiarla Tieni Solo perché non voglio rimanere sola In quest'isola Esatto Perché è bruttissimo stare qui PS Sappiamo che possiamo ammazzarci Buttando tutti gli oggetti Ci ammazziamo La fame è tornata al massimo Però se riusciamo a sopravvivere Mangiando È meglio Mi piace Mi piace capito Far la propria survival Cercare di sopravvivere Anche per quanto riguarda il cibo Non solo Per le costruzioni delle isole Quindi direi che finché resistiamo E finché ci riusciamo È giusto anche mangiare Dai Esattamente Non voglio morire Giusto per avere le cose un po' più semplici Parlando di morte Sta diventando notte Ho notato Allora Per ora è caduto solo un alberello E la cosa mi preoccupa abbastanza Uno Vabbè ne abbiamo già due Quindi Ok Il rischio è davvero minimo Però Però ho capito Preferirei andare un po' sul sicuro Direi Farebbe decisamente comodo Allora Questo lo tolgo Che l'ho messo per sbaglio Ok A che punto sei con la tua piattaforma È quasi pronta Siamo quasi pronti a bucare Se vuoi venire a vederla Ok È un'opera bellissima Aspetta Deposito i due alberelli che ho preso La legna Sinceramente Mi sembra una buona idea In caso di morte Contando che lì ci sono mob Almeno non perdiamo nulla Quindi Hai un piccone Sì A metà però Ok Sì anche il mio non è messo benissimo Allora proviamo a bucare un minimo E vediamo com'è messo Ok forse era meglio venire con una spada Ecco ecco lo vedi il mob Sì Lo vedi il mob Io ci vado ad accetta dentro Aspetta Oddio Sono due Sono due Arrivo Aia Ok uno è morto Arrivo Mi si è rotta l'accetta Morto anche l'altro Morto? Sì Cos'hanno droppato? Ho droppato qualcosa? Sì Uh anche i ragni? Dai Guarda lo spawn qui sopra Vedi? Sì dobbiamo ritappare Aiuto c'è un altro scheletro Mi dai una mano? Sto cercando di prenderlo da qui sotto Guardalo Ok La carne è la carne che ci serve per la quest Vieni via Vieni via Andiamo via Allora io qui che puoi Direi che è il caso di mettere una porta O secondo te ho tappato tutto No 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 Allora Vieni Seguimi 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 Sta succedendo un po' di caos Mettiti qui nell'angolino Ho paura Ho due polletti Cioè il primo che ho ucciso Mi ha dato già il polletto Solo che non si è uscito a dirtelo Da quanto caos c'era Allora una l'ho vista Che ha droppato Il problema è una cosa Sì Che se il creeper mi fa esplodere Il mio rifugio Che ho fatto con tanto amore Io reggio quitto E ancora peggio Se ci fa esplodere col polletto Perché guarda che è raro Cioè trovarne due È stata una coincidenza assurda Di solito non si trova Che accidenti facciamo? Si è passato dentro casa Assieme al ragno Cioè sembra che l'ha invitato Guarda Ragazzi Non è un party No c'è neanche uno sopra Io non ci credo Io non ci credo Perché ci sta succedendo questo? Allora aspetta Aspetta Allora fallo venire qua Salve Io non ho legna per tornare Poi attento Lo scheletro Lo scheletro Ti ho picchiato Oh mio dio Da dove stanno uscendo? Da dove stanno uscendo? Mi sa che non abbiamo tappato bene Io sono bassissimo Sono morto 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 Giro Vieni a salvarmi Corro Ho perso un alberello Ho perso un alberello Non so perché ne avevo uno Allora Allora Siamo andati malorganizzati Che succede? Ho paura di respawnare Allora I creeper come ricordavo però Non ero sicuro Non volevo rischiare Non fanno esplodere No Non fanno esplodere la struttura Esatto Ok 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 Però vabbè esplodi tu quindi Allo stesso tempo però C'erano le cose di quando io sono morto Ma guarda Per terra Non è che abbiamo chiuso male Li vedi che sponano lì sul tetto Eh no quello certo però Sponano sul tetto e scendono Allora Abbiamo perso i polletti Sono disperata Guardami Guardami Sono disperata Mi vendico Vado Vieni con me No sono disperata Io non ho armi Fatti un piccone Fatti un piccone Le armi non servono Ci penso io amassare Che cosa le armi non servono? Fuori Ma dai Ok bom meal Apprezzo tantissimo Poi tu Cosa vuoi fare? Sì dammi Uno Due Semino 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 per il grano Ok Con chi ce l'hai? Ecco i semini Vieni qua Skeletro Vieni che ti spacco in due Uno Due Tre Ok di nuovo bom meal Guarda che ci stanno andando benissimo Ok Dai meglio Almeno ci siamo rifatti delle perdite Che abbiamo Il bolletto non abbiamo trovato Pianta gli alberi Dai lo ritroveremo Allora gli alberi dove sono? Nella cesta Vero? Io non ho nulla Non ho nulla Ok sono quattro giusti Anche perché poi uno lo avevo Non so perché da dove me lo sono tirata fuori E l'ho perso Quindi boh Peccato Peccato Allora io ti creo Ma io solo ho un piccone Ti avverto Solo un piccone No sto creando due picconi in pietra Ok E adesso ti creo una spada Ok grazie grazie Arriva Arriva mob Arriva mob Zombie 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 Vattene Questo ci dà un po' di carne Per quanto sia brutta come carne Eh però no male Comunque abbiamo detto che non volevamo morire E siamo morti entrambi E vabbè però siamo morti combattendo Non è che siamo morti suicidandoci Siamo morti combattendo Cioè è un onore morire combattendo Sempre una morte Siamo morti come dei tontoloni Con tutti quei morti Esatto Guarda io non so che dire Guarda quanti zombie Abbiamo bisogno di farci un po' di torce Assolutamente Dobbiamo farci delle torce Appena spawno il prossimo albero Ci bruciamo un po' di legna E ci facciamo le torce Assolutamente sì Allora tieni E tieni Ok Grazie mille Allora io poi farò anche le porte nel rifugio Perché voglio vedere se un creeper Si riazzarda a rientrare Facendo il party con il ragno Capito? Capito questo è solo nostro Non ci possono entrare loro Allora Combattere mi sa che mi lasci da solo Perché ho paura che altrimenti ci picchiamo Ho paura che ci picchiamo a vicenda Tipo questi Ragni che si spingono a vicenda Allora Creeper Creeper vai via Creeper Creeper Non ha neanche la faccia Come puoi Capito? Fronteggiare un qualcosa che non ha neanche la faccia Che fai? Allora Ne ammazzo di nuovo un po' Sperando di trovare Allora Oddio Ok l'ho ucciso Io mi sto spaventando tantissimo Allora Allora tu fai questi E controllo che non ne cadano Polletto Polletto Ok No vabbè No vabbè No vabbè No non morire Aiuto Non morire Ho paura di colpirti Aiuto che faccio? Scappa Sei morto? Sei vivo? Che succede? Vivo Ancora per poco Tappa e scappa Aspetta che se vuoi mie Ok Metti tutto nelle ceste Vai 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 Che caos Aiuto Che caos ragazzi E vabbè ma sono così queste map Cioè nel momento in cui devi combattere Devi stare proprio concentrato Allora Abbiamo trovato Dieci frecce Quattro di bomial Cinque di terra Degli scheletri Un polletto E un ender pearl Sì perché in tutto quello Ho ammazzato anche uno di quelli Sta sorgendo il sole Credo che sia la luna Che se ne sta andando Quella quindi Sono un po' felice Ok Perché così finisce tutto questo disastro È una buonissima notizia Cuciniamo il polletto Vieni 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 Nella nostra bellissima base Allora Vieni ho della lente Ce l'hai? Ok perfetto Ok perfetto Ah un po' di luce Oh possiamo finalmente cucinare il polletto Dobbiamo fare carta forbice sasso Per chi mangia il polletto Non lo so Carta forbice sasso Vai Ma non si vede Potresti barare Nella tua Aspetta Mi avvicino da te Ti stai avvicinando Vai Carta forbice sasso Accidenti Accidenti Sei una brutta persona Ho un polletto Tutto Arrivano mob Attenzione Arrivano mob Arrivano mob E mi sto mangiando il polletto Scusami Vabbè li uccido io Ma neanche mi ha riempito Uffa Attenta Aspetta Ci ho dato anche la quest completata Però non ho ancora guardato l'isola La guardiamo assieme Aspetta 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 Perché cosa stavamo facendo I polletti Secondo te Non lo so Vedo già delle cose fantastiche Da qui sotto Questo sto cercando di tirarmi frecce Cioè ti sembra Cadi di giù Cadi di sotto Non ti permettere mai più di tirarmi le frecce Bravissima Guarda Guarda cosa abbiamo Da questa parte Già Allora Bellissimo Allora So Che con i bollmial Potremmo far crescere quest'albero Però essendo la prossima missione Fare il pane E quindi piantare del grano Io direi di tenerci la bollmial Per quella missione lì Mi sembra una cosa più saggia Allora Aspetta Ascolta Per il momento Siamo messi abbastanza bene Con la legna Non è che siamo messi così male Quindi direi di lasciare Crescere l'albero Proprio spontaneamente Usiamo la bollmial Peraltro dai Esatto Io sono d'accordo così Mi sembra la scelta più saggia Da fare Perfetto Allora Ok Vai giù Ma perché sei così veloce Creeper Tu davvero Hai sprecato della legna Già per fare le porte Sì Perché non voglio che nessuno Entri nel mio rifugio Guarda che carino adesso Hai visto No Fa schifo Allora Se te l'avessi detto Non me l'avresti fatto fare Quindi lo faccio Non mi scocciare Sarebbe andata proprio così Hai capito benissimo Non mi scocciare Ascoltami un attimo Abbiamo questa nuova isoletta Faccio una bella pietaforma Ok Aiuto Queste non le so fare Sfruttando l'acqua Tendo a morire di solito Allora Quanti blocchi di terra ne abbiamo? Ok Quasi 20 Quindi Non male Possiamo fare un bel campo di coltivazione Esatto Perché soprattutto serve Cioè dobbiamo farlo con la terra E boh Penso che siamo messi bene A livello di terra Non ci sarà bisogno di prenderne altre Lì c'è ancora un mob Mi vedi? Vieni a guardarmi Più o meno Vieni a guardarmi Guarda che bel lavoro che sto facendo Bravo Eh? Bellino Ciao Ciao Cosa è una cosa? Tanti Sì È signor maialino lui Nah Sì È trasformato in pipistrello E sta girondolando Non ci provare? Non ci provare Dove sei? Guarda che caschi di sotto Vieni qua e fatti ammazzare Guarda che caschi di sotto Vieni qua Vieni qua No sono pieno di materiali In effetti Dai vieni su Aspetta che deposito Allora Stavi dicendo Dicevo che Aspettiamo Che cresca il nuovo albero Così abbiamo un sacco di legna Facciamo tantissime slab E facciamo una piattaforma bassissima Anche della nostra stessa isola Così ci raccattiamo Tutta la terra che c'è Ok E ci creiamo una vera e propria coltivazione Per gli alberi E per il grano Sono d'accordo Sono d'accordo Sì mi piace Poi Dobbiamo minare tutta questa cosa Senza perdere l'acqua E sarà una cosa molto pericolosa Assolutamente Quindi dovremo stare Attentissimi E dovremo appunto sistemare Anche lo spawn di quell'isola Quindi tutte queste cose Nel prossimo episodio Anche le torce Assolutamente Sì perché stanno iniziando A esserci troppi mob Tantissime cose da fare Per gestire la nostra isolotta Dai però stiamo andando bene Secondo me Sì sì anche secondo me Spero che ci piaccia così Se ci lasciateci un bel like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 ciao